Una nuova piattaforma online per monitorare in tempo reale i nuovi casi scolastici. Si tratta di uno strumento concordato tra ASLA Toscana Sud-Est ed Ufficio Scolastico Territoriale di Arezzo. Predisposta da quest'ultimo, infatti, la piattaforma consentirà ai singoli dirigenti scolastici l'inserimento dei nuovi casi, non solo per istituti comprensivi ed istituti superiori, ma anche per singoli plessi o sezioni distaccate. L'Ufficio Scolastico metterà a disposizione dell'ASLA i codici che identificano queste articolazioni, in modo che saranno monitorati nel dettaglio tutti i casi scolastici. La piattaforma online da domani sarà accessibile solo ai dirigenti scolastici, all'Ufficio Scolastico e ai servizi ASLA interessati. Tutti questi soggetti avranno quindi a disposizione, contemporaneamente e in tempo reale, la situazione di ogni singola articolazione scolastica per le attività conseguenti. In questo modo si rafforza ulteriormente la collaborazione tra sistema scolastico e sistema sanitario, che proseguirà anche nei prossimi giorni, quando il dirigente provinciale Roberto Curtolo incontrerà nuovamente vertici e servizi ASLA, alla luce degli incontri da lui svolti con i dirigenti scolastici.